mattino lombardia oggi abbiamo un ospite davvero straordinario che mattino lombardia ne sono contentissima anche perché noi stiamo chiacchierando di new york che è una città che amo moltissimo un grande jazzista e soprattutto un grande e produttore fabrizio sotti buongiorno buongiorno cara ma cita tu giusto quei due nomi che produci forza ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi artisti come tupac cassandra wilson the press wood and clan q-tip shaggy per dire c'è anche zucchero nel tuo disco c'è anche zucchero ho fatto la collaborazione con lui in questo ultimo disco ai sti che poi ascolteremo mamma mia quante belle cose allora tu sei di abano terme quando sei andato in america new york per esattezza io ho iniziato il mio viaggio americano giovanissimo a 16 anni quindi erano gli anni giusto per e si parla del 91 quindi ancora c'era questo grande sogno americano sì ed era molto diverso da oggi perché allora andare in america era andare in america non è come oggi tutto più veloce allora partivi certo e comunque ho fatto un po' avanti indietro fino all'età del militare perché se io mi sono significato completamente la musica lasciato gli studio lasciato tutto sono andato direttamente a cercare il mio sogno e inseguirlo e poi ho dovuto andare a fare militare in italia poi dal 96 sono diventato permanente negli stati uniti e come come si è portato a questi grandi nomi cioè come sei entrato proprio nella musica quella tosta e poi c'è il blue note lì che aiuta perché giovanni allevi ce l'ha detto è tutto molto più facile gli hanno detto vieni qua c'è il pianoforte facci sentire ok si è molto più meritocratico diciamo se tu vali ti fai sentire poi la gente ti aiuta certamente e quindi come è andata noi siamo veramente curiosi della tua storia guarda io sono andato lì come jazzista all'inizio principalmente ha fatto qualche disco come jazz importante fino a 23 24 anni però ero sempre incuriosito della produzione da soprattutto dall'hip hop da questo miscelare varie musiche in questi beats questo modo di fare musica diverso e dunque ho mantenuto le due carriere molto separate cioè quella di jazzista con i miei disci le mie tournée e poi quella di produttore discografico e questa volta per la prima volta voluto unire in un mio progetto che questo è il mio ottavo album unire con questi grandi nomi però in un mondo acustico cioè nel mio mondo cioè non ho provato a fare quello che di solito faccio con loro nel loro mondo li ho portati proprio nella mia dimensione e vedere se riuscivo a creare un qualcosa di di unico anche perché sono artisti completamente diversi da Isty Gangster Rapper a Zucchero a Melanie Fiona cioè è veramente a Shaggy cioè molto eclettico è vero è vero c'è di tutto in questo A Few Possibilities ottavo album quindi ottavo album di Fabrizio Sotti io direi di ascoltare subito qualcosa perché guarda qua c'è l'imbarazzo della scelta abbiamo dovuto sceglierne due ma era da mettere tutto il disco basta spegnere il microfono e ascoltarlo io direi di ascoltare il pezzo con Shaggy che tra l'altro è presente in due versioni una acustica e l'altra invece più sì l'altra c'è la versione acustica e poi l'altra è un remix di Warner Bonnett è il dj dei Assalti Frontali con il quale ho iniziato a collaborare che è un personaggio molto valido Wet in vain dai ascoltiamolo in acustico così ci beviamo un caffè ci rilassiamo Duna Emosio un grande duetto tra Zucchero e Miles Davis Zucchero è presente anche nell'album di Fabrizio Sotti A Few Possibilities che è venuto a trovarci questo grandissimo produttore jazzista nel tuo album invece Simone Hell's Tears bellissimo pezzo Sì è una ballata incredibile quando ho approcciato Zucchero per chiedere questa collaborazione In America o in Italia? In America ci siamo incontrati in America e non sapevo che pezzo avremmo fatto e gli ho detto cosa ne pensi lui mi ha proposto questo pezzo incredibile che è presente nel suo album però in italiano penso che si chiamasse il suono della domenica originariamente poi ho detto guarda ho questo pezzo con il testo di Bono fatto da Bono in inglese e è andata perfettamente A proposito di Bono One c'è anche una versione diversa di One Sì c'è anche One con questa nuova cantante che è una mia scoperta si chiama Isabella Landgren che vive a New York però è norvegese è una cantante di 24 anni è quasi una nuova Billie Holiday una Billie Holiday moderna con questo vibrato particolarissimo Ce n'è di roba bella da ascoltare in questo pezzo io direi che fra poco possiamo ascoltare anche il pezzo con iSti parlaccio anche di questa collaborazione perché si passa da Zucchero a iSti insomma però la musica è musica comuna a tutti infatti guarda la musica sono due tipi buona e cattiva al di là dei generi che ti dà emozioni forti o non te le dà o ti comunica o non ti comunica infatti è vero è vero ma con iSti è da quasi vent'anni che ci conosciamo perché ho suonato le chitarre in vari pezzi suoi quindici vent'anni fa e poi ho deciso di usarlo in The Wall perché The Wall è una canzone molto importante anche un po' ha rappresentato la mia adolescenza anche il mio malessere con la scuola con le istituzioni stiamo parlando del pezzo dei Pink Floyd ovviamente perché il pezzo con iSti che fra poco ascolteremo è Another Breaking The Wall ecco perfetto allora ho voluto rifare questo pezzo utilizzando iSti e Depress che sono due rapper veramente che parlano sempre di qualcosa di sostanzioso non fanno mai le cose pop è venuta una cosa molto profonda se ascolti il testo tu mi raccontavi prima alla macchinetta del caffè che hai pensato a un certo punto di trasferirti a Los Angeles però per la vicinanza all'Europa era meglio New York ma ti sembrava più interessante il panorama? non è che è più interessante è successo che è diverso che dieci quindici anni fa prima si andava a Los Angeles soprattutto per fare le colonne sonore o partecipare a quei tipi di progetti però l'industria musicale soprattutto dei creativi si è spostata moltissimo a Los Angeles produttori e scrittori di canzoni e molti artisti adesso vivono a Los Angeles perché New York è diventata un po' un'isola improponibile cioè devi avere una hit alla settimana per riuscire a vivere a New York e dunque a volte ho pensato perché tanti amici, tanti collaboratori sono spostati lì però poi alla fine sono rimasto a New York perché non ce la faccio andare via ma come si fa andare via da New York? ma beato te che puoi andare a fare shopping in Fifth Avenue su andiamo scendo di casa vado capisci? perché stai sulla mi dicevi vivo sulla 36 quinta al corner con la quinta capisci e un'ultima cosa com'è New York? come condizione crisi economica? te te lo devo fare questa domanda poi ascoltiamo another break in the wall beh dopo la grande recessione si è ripresa alla grande come vedi tutte le borse tutto bello gonfio però sai quando tu vedi questi indicatori così significa che sì forse siamo vicini a un altro momento ma non così brutto però non così brutto però secondo me un annetto due si torna un po' indietro guarda in Italia stiamo ancora indietro quindi ormai ci siamo seduti speriamo bene allora io ti ringrazio tantissimo quando torni dagli Stati Uniti e passi da Milano ti prego vienici a trovare Fabrizio Sotti comprate questo album che è strepitoso così ascoltate anche il pezzo di zucchero che vi abbiamo solo così incuriosito non ve l'abbiamo fatto sentire e più possibilities insieme a un sacco di featuring eccezionale appunto shaggy, zucchero anche iced tea adesso lo ascoltiamo con Another Break in the Wall grazie grazie mille che ha dato di vederci Mattino Lombardia